Allora grazie al dottore De Francesco ha detto delle cose molto interessanti, io vi ricordo che se capita, ma in tutte queste problematiche, la cosa migliore è andare davvero a rivolgersi a questi numeri perché in forma anonima potrete essere aiutati e poi anche in modo più tangibile come ha spiegato lui con l'intervento dello Stato. Cambiamo argomento e spostiamoci un attimo a Ragusa, iniziamo dal museo che si sta allestendo a Palazzo Zacco, Palazzo Zacco è un palazzo molto bello e anche questo è inserito nella lista Unesco, uno dei 18 monumenti e da tempo immemorabile si parla di fare un museo in questo palazzo, io ci andavo a studiare perché una mia amica era figlia dei proprietari, ti parlo degli anni 70, anche 67-68. E io me lo ricordo come palazzo in cui ci si abitava, ora tutte queste stanze, come sono tutti quei palazzi di una volta, dice il comunicato che ci saranno alcune opere della collezione Cappello, le foto del bianco e del maestro Leone, la civiltà contadina, insomma io devo dire che non è che sarà un museo allegro, perché sarà un museo di quelli un po' dice, beh a tutti i musei sono un po' seccanti, dobbiamo dire la verità, il trucco è riuscire a raccontare le cose, metterci dentro qualcosa che sia sul, come vi posso dire, sul multimediale, loro dicono che lo stanno facendo, bisogna vedere che tipo di multimediale, vi ho fatto vedere qualche tempo fa questo museo di Enna, quello delle confraternite, io saluto anche gli amici di Enna, che è stato fatto in un vecchio convento, la sopra, la parte vicino al cimitero, la parte alta di Enna, dove praticamente si usa molto i visori, la tridimensionalità, gli odori, addirittura i sapori, è possibile assaggiare, bisogna fare qualcosa che sia diverso, se no davvero diventa un museo schippabile, non come il museo archeologico, ma a questo punto, e poi bisognerà fare una rete, come fa la gente a sapere cosa c'è? E se poi io sono turista e c'è scritto, guarda che dentro c'è la collezione cappello, e la collezione, ecco queste sono le immagini di Enna, molto, 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 come ti posso dire, multimediale, con immagini, grandi cose, questo è un modo un po' diverso di pensare alle cose. Allora, vedremo come se la cava, in questo caso, l'organizzazione, la consulenza di questa città per fare questo museo. Andiamo un attimo a Ibla. Allora, mi viene da ridere, perché ho pensato che voglio organizzare un'arrustuta di pesce alla villa. Che c'è di male? Un'arrustuta di canne e un'arrustuta di pesce. La possiamo fare l'una e l'altra. Perché, come ho già detto ieri, a Ibla, con questa cosa barocca e neobarocco, di grandissimo livello, di grandissimo livello, sono in pochi, perché l'abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo fatto i servizi a pagamento, l'anno scorso abbiamo visto, alla fine erano 5-6 persone alla volta, si conclude tutto con questo pranzo, questa cena, nella villa, all'aperto, curato dall'antico convento, 70 euro cada uno, all'aperto. E allora se io che so come prologo decido di fare un'arrustuta nella villa a buffet, si può fare? Cioè, chiedo questo, se è possibile pensare che si possa fare un pranzo all'interno della villa comunale. Ma che vuoi, una tantum? Vabbè, una tantum ma anche a Donna Fugata, che ora la rifanno. Cioè, per certe persone è possibile, poi se ci vado io mi dicono che non è possibile. Questo perché? Perché noi siamo esterofili. Agni altri ci piacciono, chi ne vengono, Remmelano, tutti, con c'è l'architetto, Pinco Pallino, ma chi ne ha mai sentito guardare? Ci spiegherà cose incredibili. E beh, noi ci facciamo prendere per i fondelli, alla fine, ripeto, andate a vedere quanta gente, noi non ci andiamo, andate a vedere quanta gente ci sarà alle inaugurazioni, ai convegni, e vedete. Per quanto riguarda la cena qui, in questa, non lo dice dove c'è la rotonda, però potremmo farla qua. Mettiamo un bello, lo spiedo, lo spiedo come quello dei cenacolari. Mettiamo lì uno spiedo che gira per 150 persone, facciamo pari a Reci 15 euro all'uno e mangiamo alla villa. Non è bello. Perché lo possono fare loro e noi? No. Bene. A proposito di Ibla, c'è questa storia di come ci deve arrivare a Ibla, no? La ZATL, i posteggi, allarghiamo la strada, qualche cosa bisogna farla. Perché sono 185 anni, no? Scherzo. Sono almeno 15 anni. E parliamo sempre delle stesse cose. E c'è la navetta, la strada è stretta, allarghiamo i posteggi. Dov'è il posteggio? Come ci scendiamo? Ma porca miseria! Noi siamo costretti a farci plasmare. E qui è il termine. Plasmare. Ora vi spiego di cosa vuol dire plasmare. Sentiamo questa intervista fatta ad uno del comitato Vivi Ibla. Grazie a tutti.